Qual è la fotografia enogastronomica? Le immagini dei ristoranti in cui vogliono andare e nel momento in cui trovano un sito, trovano una pagina che parla di un ristorante ed è priva poi di un'immagine si perde un po' tutta la magia di quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione. La cosa fondamentale oggi è saper dosare i mezzi di comunicazione e l'uso poi delle immagini, nel senso che immagini anche esagerate, immagini che non sono legate alla realtà, sono quasi un elemento negativo. Bisogna invece cercare di creare un'immagine che sia il più naturale possibile, che rispecchi il più possibile l'anima del ristorante e allo stesso tempo coniugarla con le nuove tecnologie. e quindi cercare di pubblicizzare il più possibile su Facebook, su Twitter, tutti i nuovi media che ci vengono offerti e soprattutto avere un sito a disposizione in cui un utente è in grado di sfogliare una galleria di immagini che sono belle immagini da vedere, che possono far venire la cuolina in bocca. In generale oggi la tendenza è questa, cioè quella di andare alla ricerca di immagini perché si vuole sapere prima anche quello che si andrà a mangiare come se una persona vuole prima soddisfare l'appetito degli occhi e poi quello della bocca e quindi per quanto riguarda i corsi per gli chef è sicuramente di fondamentale importanza oggi. Allora oggi abbiamo avuto la possibilità di scoprire come fare, prima di tutto come costruire una lightbox, quindi come gestire al meglio luci ed ombre che è una delle problematiche principali della fotografia. Abbiamo avuto la possibilità di creare dei set casalinghi, diciamo così, quindi delle immagini con un contesto quindi abbiamo fotografato sia piatti preparati dagli chef e sia dei piatti casalinghi con uno sfondo che sia magari un tessuto all'italiana o delle sottoline della nonna. Gli chef per lo più oggi in questo corso abbiamo avuto modo di vederlo cercano delle foto molto semplici, delle foto che abbiano uno sfondo bianco, delle foto in cui il loro piatto è in assoluta rilevanza rispetto a tutto il resto perché non ci sono elementi che vanno a disturbare il loro piatto. Gli chef sono i food stylist di loro stessi e quindi creano già delle immagini che sono appetibili, dei piatti che sono bellissimi da vedere. Il nostro modo di far fotografia, venirgli incontro è quello di, aggiustando le luci, dandogli comunque un aspetto magari un po' più accattivante isolare il loro piatto, isolare la loro pietanza per farla risaltare ancora di più e questo è demerso oggi. Un appassionato invece cerca il contrario, cioè cerca delle foto che abbiano un contesto, delle foto casalinghe e quindi va a preparare dei piatti che sono semplici e hanno a disposizione un'attrezzatura che logicamente non è quella che hanno a disposizione gli chef quindi hanno dei piatti che sono piatti di casa, piatti casalinghi e la loro forza consiste nel rafforzare l'immagine mediante l'ausilio di altri strumenti. Quindi un piatto di pasta come abbiamo visto oggi, noci, pere e cannella viene messa in evidenza con uno sfondo in cui sono presenti quegli stessi elementi, quindi abbiamo la cannella, le pere e le noci sullo sfondo di questo piatto. I food blogger oggi sono la maggioranza poi dei blogger in totale e questo dimostra che le casalinghe, le persone che cucinano, chiunque sia un appassionato di cucina ha l'esigenza di immortalare il suo piatto come ricordo, di immortalarlo per mostrarlo ai nipoti o per mostrarlo alla blogosfera e quello che noi vogliamo è che abbiano gli strumenti a disposizione anche semplicissimi e molto economici per rendere le loro immagini sempre più belle.